Buongiorno, oggi intervistiamo l'assessora all'istruzione alla scuola e al volontariato del Comune di Padova, Cristina Piva, che ci aggiornerà sulle attività del progetto per Padova, noi ci siamo, legate appunto al mondo scolastico che in questo periodo, insomma con la didattica a distanza, è messo un po' alla prova, come sono messa alla prova anche le famiglie. Quindi anche all'interno del progetto sono state pensate alcune azioni e altre, sta portando avanti l'assessorato sempre in collaborazione con altre associazioni o istituzioni del territorio. Quindi iniziamo dal progetto, sono stati acquistati 106 tablet e PC, perché e dove andranno? Innanzitutto buongiorno, direi che si sta concretizzando un progetto proprio per le povertà educative che sono emerse. Con questa situazione sono emerse proprio le difficoltà di molte famiglie a poter acquistare un mezzo informatico per poter far lavorare i ragazzi da casa. di questo ne avevamo coscienza, ma ci hanno reso noto questa situazione anche tutti i dirigenti scolastici che ci hanno investito di questo problema. Il progetto per Padova noi ci siamo del comune, del CSV e della diocesi di Padova sta lavorando proprio per eliminare queste sacche di povertà educativa che abbiamo riscontrato. Sono stati acquistati con i fondi 106 tra PC e tablet che sono stati consegnati in una piccola parte al Centro contro la violenza alle donne e sono stati portati ai figli di queste persone che vivono in situazioni protette e altri 100 sono stati acquistati per essere distribuiti nei vari istituti comprensivi. Noi facciamo da ponte con la coordinatrice dei dirigenti scolastici, la dottoressa Doria dell'ottavo istituto comprensivo, che poi ci darà una mano a individuare le situazioni nei vari istituti comprensivi e a distribuire alle famiglie il mezzo. Logicamente per correttezza e anche per non andare a toccare dati sensibili noi non conosciamo i nomi delle famiglie che saranno invece contattati personalmente dalla scuola e a questi genitori verrà consegnato un PC incomodato d'uso che resterà di proprietà della scuola ma che potrà dare una grande mano a questi ragazzi che altrimenti sarebbero proprio tagliati fuori dalla comunicazione che già è molto difficile immaginiamo come sia senza il mezzo. C'è un altro progetto? È stata fatta una stima, cioè quanti, perché appunto ne abbiamo acquistati 100 attraverso il progetto. Sono sufficienti a coprire tutte le necessità o ci sarebbero altre necessità? È già stato dato un numero indicativo appunto da questo coordinamento dei dirigenti scolastici per capire se eventualmente ci sono altre necessità da coprire? Non abbiamo il numero esatto dei bisogni, però i dirigenti ci assicuravano che anche con dei mezzi del loro istituto hanno potuto comprare i primi PC per i ragazzi. L'associazione Trendevi so che ha fatto un crowdfunding anche così in via personale e hanno distribuito nella zona dell'Arcella altri 100 strumenti mediali in maniera da poter coprire le esigenze che si sono venute a creare. Io credo che questo possa essere sufficiente. Ci sono situazioni diverse, situazioni di genitori che non hanno nulla, pensiamo magari alla famiglia straniera che non ha accesso a questi strumenti, oppure possiamo anche pensare alla famiglia che ha un solo strumento ma che ha più fratelli e in più magari qualche genitore che lavora da casa. Sarà proprio cura dei dirigenti, individuare le necessità più pressanti ed eventualmente magari farci presente qualche altra situazione che possa essere sanata. Bene, tra l'altro segnalo che sempre all'interno del progetto in collaborazione con le consulte di quartiere è stata lanciata anche la proposta delle connessioni solidali condivise perché a volte non è sufficiente il computer magari manca anche la connessione o non è sufficiente la connessione internet. Per cui appunto una possibilità che abbiamo lanciato nei quartieri e nei condomini è quella proprio di mettere in condivisione le proprie connessioni in modo da poterla garantire anche a chi magari non ce l'ha e quindi può essere un buon abbinamento insomma oltre allo strumento anche la copertura internet. Sì, è stato un bel gesto che le consulte dei quartieri hanno percepito a livello di condomini e che ha poi sviluppato e disseminato nei vari quartieri. Mi pare un'azione solidale che possa essere portata avanti anche con un piccolo sforzo da parte dei vicini di casa senza che questo possa creare grandi difficoltà però porta un grande aiuto alle famiglie. Ci sono altri progetti che sta seguendo come assessorato? Sì, abbiamo un progetto che sta partendo, partirà nei prossimi giorni. È un progetto dell'università, della facoltà di psicologia dove ci sono un centinaio di studenti che dovrebbero fare tirocinio nelle scuole che si rendono disponibili a fare da tutor a ragazzi per l'apprendimento didattico all'interno della famiglia. Lo farebbero a distanza ma seguendo un ragazzo, una ragazza singolarmente avrebbero la possibilità di sostenerli e di dare una mano laddove ci siano delle difficoltà anche di utilizzo. Quindi mi sembra un progetto di grande apertura e che credo apprezzeranno molto anche i dirigenti scolastici. Noi avvaliamo questo progetto, lo facciamo conoscere ai vari dirigenti e saranno i dirigenti poi a mettere in contatto lo studente con l'alunno o il ragazzo che usufruirà di questo servizio a distanza. Quindi ci sarà un collegamento uno a uno. Benissimo, anche questo. Ci sono appunto dal suo osservatorio, dal rapporto con le scuole, come stanno vivendo questo periodo i ragazzi e gli insegnanti. Diciamo che è stato un momento di novità imposta che ha creato sia difficoltà che però anche soluzioni innovative e nuove proposte. Sicuramente non sarà la stessa cosa che trascorrere le mattinate a scuola, anche perché manca la socialità, tranne in quei momenti in cui si può fare una lezione comune. Però credo che questo insegni moltissimo ai ragazzi e se non impareranno qualche nozione come a scuola riusciranno magari ad avere delle competenze finora impossibili da verificare. Questo modo di fare scuola così improvvisamente cambiato ti mette nelle condizioni di doverti impegnare ad accettarlo e a risolverlo in qualche modo. Io ho dei riscontri, alcuni positivi, anche sia dai genitori che dalle insegnanti. Certo non tutto è facile, specialmente per i bambini più piccoli. E poi mi rendo conto che dove non c'è la capacità o l'indipendenza del ragazzino, c'è bisogno di un intermediario che possa essere il familiare. Quindi anche le lezioni in differita possono essere uno strumento utile perché si può accompagnare il ragazzo nei momenti in cui c'è spazio in famiglia per poter sostenerlo e dare una mano. Bene, quindi insomma speriamo, mi pare che sia un bel messaggio insomma quello di provare a cogliere appunto gli aspetti positivi e le competenze insomma che si possono acquisire pur nella difficoltà della situazione. Devo dire che anche le scuole dell'infanzia si stanno attrezzando e stanno costruendo dei Padlet proprio che possono servire alle famiglie per mantenere i contatti con quel mondo, con le loro insegnanti, con le loro realtà quotidiane, le loro storie. Non sarà tutto perfetto ma credo che si debba partire da una realtà quindi stiamo costruendo insieme qualche cosa che poi sicuramente sarà migliorabile. Bene, grazie. Allora attraverso il progetto insomma per Padova noi ci siamo con questo primo acquisto speriamo di essere d'aiuto insomma alle famiglie e un invito insomma ai cittadini quindi a continuare a donare nel senso che la campagna di raccolta fondi è aperta siamo circa già a metà insomma dell'obiettivo quindi c'è già stata una bellissima risposta però insomma la campagna di raccolta fondi è ancora aperta quindi speriamo che prosegna. Volevo proprio approfittare di questo mezzo per ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano sia qui a Donato, chi organizza, i volontari che poi concretamente arrivano alle famiglie, alle necessità perché in situazioni come queste credo sia veramente un grande piacere vedere come la città si sostiene l'un l'altro proprio per arrivare all'obiettivo quindi un grande grazie a tutti quelli che hanno collaborato e che ci danno una mano. Grazie. Bene, grazie mille anche a lei.